questo è il simbolo dell'olocausto dei tedeschi quello che hanno fatto 2400 steli che si trovano nel centro di berlino a pochi passi dalla porta di brandeburgo è un'opera impressionante notare l'uniformità sembra di risentire riecheggiare le voci ripeto siamo a pochi passi dalla porta di brandeburgo è impressionante io che sono stato a cracovia devo dire che è impressionante non finisce mai grazie Grazie.